La colazione deve assolutamente far parte della tua colazione Ecco perché lavena deve assolutamente far parte della tua colazione Si sa che la colazione è il pasto più importante della giornata, perché ci permette di avere energia e nutrienti per tutta la giornata. In questo articolo ti spieghiamo limportanza di mangiare avena a colazione, elencandoti i suoi benefici principali. Il consumo regolare di avena aiuta a ridurre i livelli di colesterolo e di zuccheri nel sangue. Inoltre, grazie ai suoi composti fitochimici, ci protegge dal cancro e ci permette di avere difese più efficienti. Tiroide. I cereali sono una ricca fonte di manganese, un minerale che aumenta la produzione di ormoni tiroidei che accelerano il metabolismo. Inoltre, mangiare avena ogni giorno ci aiuta a bruciare più calorie. Difese. Difese. Mangiare avena a colazione ci permette di avere difese più efficienti, tenendo alla larga raffreddore e influenza. I beta-glucani dellavena aumentano la produzione di globuli bianchi, responsabili della lotta contro virus e batteri. Appetito. La fibra solubile dellavena attiva la produzione di colecistochinina nello stomaco. Si tratta di un ormone che, tra le altre cose, riduce anche la fame.